Quanti anni mi date? Sono di più. Beh, non vi dirò veramente quanti ne ho, ma vi posso assicurare che mi sento ringiovanita. Non è mai troppo tardi per partecipare a un corso For Voice Colors. Migliorando la vostra voce, migliorerete la vostra vita e i rapporti con le persone diventeranno più divertenti e ditemi se è poco. For Voice Colors, empower your life now! Grazie a tutti!